Buongiorno a tutti ragazzi eccoci qua siamo su un punto di una fluente dell'Ansa nella valle nella valle Anzasca vedi guarda che bello qua questo qua per esempio è un bel trappolone quello lì e comunque direi di fare stiamo valutando il punto di scavo e andiamo a vedere qua dove dobbiamo scavare principalmente abbiamo trovato abbiamo trovato un punto dove affiora dell'argilla che bello lì c'è da farsi il bagnetto ragazzi questo qui è un punto per farsi il bagnetto aspettate è la sotto argilla inizia ad arrivare l'argilla poi vedi tutti questi sassi sono incastretissimi e il ragazzo l'ha di fianco e lì vedi scavare la trovate anche la pallizza se vanno qui sotto ne trovate altri due tra quindi immagino che mi guarda prima sì sì e va bene ho allargato un po' per lo scarico perché qua a me non mi va più così scarica meglio che spettacolo questo è uno spettacolo pure ragazzi ingegneria un secchio in un minuto cos'è un minuto dei ragazzuoli siamo arrivati quanti? semmeno una sessantina di secchi una sessantina di secchi per pulire questo questo posticino e guardate lì cosa c'è l'argilla tutta argilla adesso ce l'andiamo pulendo 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 e lavando 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 fino a quando fino a quando troveremo la pepitazza speriamo dai che se puoi eccolo qua eccolo qua ecco qua cosa serve una piccola riga con un po' di corrente questo è tutto un materiale di scarto della canalina che è andato fino addirittura di là e adesso facciamo facciamo qualche secchi ancora e poi laviamo anche l'altra canalina mettiamo tutto il concentrato e vediamo cosa salta fuori una bella sorpresa sicuramente dopo ve le mostreremo ragazzi questa bellissima giornata e ragazzi vediamo vediamo lì le skipper le abbiamo tolte tatine funzionò dalla grande con quella V con quel separatore ed ecco qua il risultato oh 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 ma quante pepitelle quante pepitelle ma che bellissima questa qui ragazzi è è ancora impregnata di qualcosa e voilà piccino gol dire come è bello il cuscio della pioggia ciao a tutti ragazzi oggi siamo qua a constatare se abbiamo visto bene stiamo facendo un paio di pospezioni con fabio alla alla batea fabio saluto agli amici ciao vediamo se andiamo a prendere la pepitona adesso stiamo provando a vedere la sopra per vedere se c'è qualcosa che è crollato giù praticamente deve essere una frana questa e chiaramente mangia la skipperina guardate in che posizione ho messo è in curva ma non gliene frega niente a lei se è in curva perché tanto sotto di la esce dritto quindi la latatina è una bomba gli ho fatto tre secchi però ancora non si vede niente vediamo andiamo più avanti cosa? quella roba si quella roba sbattilo lì che lo mettiamo in un secchio pieno d'argilla si quello lì si è di brutto siamo sull'argilla praticamente si dovrebbero trovare i pezzi più grossi vediamo chris saluto agli amici ciao attenzione che quello lì ha fatto un suono abbastanza vuoto adesso le abbiamo anche questo qua questo ha fatto un suono abbastanza vuoto non è che possiamo fare la caverna piuttosto stiamo di qua perché se buchi sotto se buchi sotto lì è poggiato eh guardate come frigge bene come frigge bene le trappole guardate come si morono bene questo è un movimento perfetto che dobbiamo avere per tenere fuite le trappole che dobbiamo fare intasare e catturare il materiale pesante vedete come giocano? guardate co io guardate in sin Bora Sì, non c'è una mazza. Il lavoro che è stato fatto di qui ieri l'hai fatto più o meno di qui oggi quindi in teoria dovremmo ottenere non lo stesso risultato perché ci sono parecchi secchi in meno però se lì era un grammo per esempio la dovrebbe restare meno 0,6 dovrebbe essere solino quello lì dove stanno con il dito? con il fondo con il fondo Niente che volevo dire! Ticino! Gli molti! Grazie!